Dal governo arriveranno i fondi per coprire i buchi di bilancio legati al post-terremoto e lo strumento finanziario sarà approvato nei termini previsti dalla legge. Ne accerta la senatrice del PD Stefania Pezzopane, che in questi giorni è in contatto con la sottosegretaria De Micheli, che detiene anche la delega per il terremoto abruzzese. Se i fondi arriveranno come promesso, pertanto, non si arriverà allo scioglimento del Consiglio Comunale, anche se è tutta da volutare, l'ipotesi che l'aumento della Tari possa essere scongiurata. Da Villa Gioia è partita una richiesta di almeno 18 milioni di euro. Secondo alcune stime si potrebbe arrivare fino a 24, ma la sensazione è che da Palazzo Chigi lo stanziamento possa arrivare, ma in quantità inferiore, a quanto invocato dal sindaco Massimo Cialente, che nelle scorse settimane ha avuto parole di fuoco sia per il governo sia per la sottosegretaria De Micheli. Forse non la scelta migliore, in vista della decisione di uno stanziamento che potrebbe essere decisivo per non aumentare le tasse e tagliare i servizi erogati dal Comune. Stanno valutando queste richieste, che si è superata la fase più critica, che c'è un impegno del governo a coprire le mancate entrate derivanti dal fatto che il processo di ricostruzione non è ancora completato, e le maggiori uscite derivanti dal fatto che la città ovviamente ha una sua organizzazione sociale molto più complessa che purtroppo costringe il Comune a maggiori oneri, per esempio sul sociale, per esempio sulla viabilità, per esempio sui trasporti. Ci sto lavorando da molte settimane e tutti gli anni questo problema è stato risolto. Stiamo lavorando con il sottosegretario Paola De Micheli a definire le somme, ma sicuramente entro il 25 il governo darà un segnale concreto al sindaco Massimo Cialente intorno al quale noi tutti stiamo lavorando perché mai e poi mai un governo che dà 6 miliardi ed oltre di euro per la ricostruzione farà avvenire meno questo consenso per qualche milione di euro.